Insieme a queste sono le politiche di merito sul lavoro. Noi abbiamo fatto una scelta, il decreto che è stato approvato, la legge delega. Perché abbiamo scelto questa strada come governo? Perché abbiamo guardato un po' indietro. E tutte le volte che ci siamo infilati, dritto per dritto, in una bella scazzottata sull'articolo 18, abbiamo ottenuto lo spettacolare esito di non combinare niente. Quindi, legnate a tutt'onda, divisione secca, risultato finale, zero. Allora, siccome la mia opinione è che noi invece dobbiamo portarci a casa i risultati e non le legnate, l'impianto è un po' diverso. Abbiamo fatto un intervento sui contratti a tempo determinato e sull'apprendistatrice. Perché? Perché sono l'80% degli avviamenti al lavoro in questo Paese. E se sono l'80% degli avviamenti al lavoro, sarà bene occuparsi dell'80%. E la norma che abbiamo prodotto è una norma di pura semplificazione.